un saluto a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale oggi andiamo a vedere come impostare come far funzionare un visore di realtà aumentata allora andiamo sul pre store e scarichiamo questa applicazione che si chiama full drive virtual reality aspettiamo che si installa ok ecco l'ha installata una volta installata la paramo ci farà vedere dei pop up per spiegarci più o meno come funziona ci chiede l'autorizzazione al microfono alle foto e un'altra cosa giriamo il telefono verticale ecco qua come vedete adesso ci potrà questa è la schermata iniziale la home chiamiamola così e dunque noi potremmo selezionare quello che vogliamo vedere semplicemente spostando il capo e fissandolo ecco adesso andiamo ad aprire un video che mi sembra che sia di zombie ecco che sta caricando ecco ecco il nostro video siamo in mezzo degli zombie che ci stanno mangiando vedete adesso proviamo a muoverci un pochettino ci spostiamo vedete che abbiamo un altro zombie quindi con questa applicazione potremmo comandare tutto con muovendo la testa ciao 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 ciao